La parola di Gesù è forte oggi, eh? Un guai al mondo per gli scandali. Gesù è realista e dice che è inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Io vorrei, prima di iniziare la Catechesi, in nome della Chiesa chiedervi perdono per gli scandali che in questi ultimi tempi sono accaduti sia a Roma che in Vaticano. Vi chiedo perdono. Così Papa Francesco, all'inizio dell'udienza generale di questa mattina, ha commentato la frase di Gesù, riportata nel Vaggello di Matteo, letta in piazza San Pietro prima della Catechesi dedicata alla famiglia. Al termine dell'udienza il Papa ha poi ricordato che sabato prossimo, 17 ottobre, ricorrerà alla giornata mondiale del rifiuto della miseria. Questa giornata, ha detto, si propone di accrescere gli sforzi per eliminare l'estrema povertà e la discriminazione per assicurare che ciascuno possa esercitare pienamente i propri diritti fondamentali. Siamo tutti invitati a fare nostra questa intenzione perché la carità di Cristo raggiunga e sollevi i fratelli e le sorelle più poveri e abbandonati.